Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuovo video di recensione dei prodotti dei supermercati italiani che fanno cose giapponesi con un giapponese a caso Attivate i sottotitoli Oggi cosa facciamo? Kyua, yakisoba? Yakisoba, yakisoba per chi non lo sapesse è fatto dai kanji di yaki che viene dal verbo yaku, che vuol dire grigliare e soba, la soba è sobanani, japanis, nudo, che sono più o meno gli spaghetti giapponesi Oggi abbiamo preso tre marche diverse di soba e le proveremo per voi Soba è francese, con il nudo soba, ne? In realtà ci sarebbe un vegetale Natiru, soku, buzze, soba È proprio il vegetale soba con il quale viene fatta la soba Però di ultimo, specie queste catene anche che costano poco come Fujisoba, ma dai dai, soba già ne? È principalmente la soba Sì, non è realmente la soba, perché comunque la soba è abbastanza costosa Che cotta c'è ne? E allora adesso si finisce per usare sempre di più, insomma, dei materiali che costano meno produrli Che però fanno anche un po' meno bene Infatti soba è caro da nio, non è? È veramente Però non c'è praticamente dentro la soba, nella soba coordinata e nei posti che magari costa 300 yen Daitei quella sono le soba Se le soba sono le sobe, sono le sobe Daitei 7 euro, 10 euro Sì, quindi praticamente se volete mangiare la vera soba non andate nelle catene che costano 3-4 euro Perché non ci sarà praticamente dentro soba, nella soba che mangerete Ma andate proprio nelle soba IA, quindi nei negozi di soba E vi costerà dai 7 ai 10 euro per porzione Abbiamo preso qui tre diversi tipi di soba Guardateli da vicino, iniziamo da questa Questa che è dal Saikebon Saikebon Non so se è un gioco di parole tipo Saike 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 Non so se questa hanno cercato di farlo in italiano tipo Saikebon Soba classico Nishin Questa costava quasi il doppio di questa E questa dovrebbe essere un'azienda giapponese Nishin Italia, quindi Tavun è un po' diverso Però questa guardando c'è scritto Nishin Italy, quindi non siamo sicuri Nishin Italia, 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 quindi non siamo sicuri Nishin Italia Ah ok, praticamente questa è sempre quell'azienda giapponese Però è stata rinventata Insomma, è un prodotto che è pensato per gli italiani Quindi può essere che un sapore un po' diverso E di ultimo abbiamo questa della Meghi Maghi Non so come si pronuncia Maghi Che è noodles Più verdure, più salsa di soia Al gusto classico Due porzioni Dodaro, buonga Andiamo a vedere le calorie Calorie, mettiamo Questa ha Vabbè, vediamo Per 100 grammi Questa per 100 grammi Ha 224 calorie Mentre questa ne ha Oh mio Dio Questa ne ha 435 Guardando i pacchetti Questa mi sembra la più buona Andate a guardare le foto Questa è quella che sembra di più una yakisoba Allora, dalle immagini Vi dico già che queste non sembrano una yakisoba Mentre questa yakisoba poi Mentre quella sembra più una yakisoba Quindi Questa comunque costava due euro e mezzo Questa un euro E questa 99 centesima Ma questa è per due persone Vabbè, andiamo a farle? Scurima sciocca Adesso andiamo a mettere l'acqua in queste E andiamo a preparare le nostre sobette Iniziamo da questa Ragazzi, ho mandato il giapponese a cucinarle Perché dico, vabbè, sarà bravo Qui abbiamo quella della magi Come potete vedere Mmm, un nioiですね No, questa sa proprio l'aspetto della soba Non è un nioi, un nioi instant Ok Ok Ha detto già che quella della Nishin Sa proprio di yakisoba Proprio il giapponese istantanea Itadakimasu Ok Ok Questa sembra una pasta dell'acnor, ve lo dico Non ha un profumo particolarmente forte Oh, è vero Che cosa è vero? Si è vero Più che Sembra più fatta al vapore Più che insomma la griglia Buon appetito Potevamo mangiarla insieme Facevamo tipo Liglia e il vagabondo È vero Non è vero Non è vero Allora, lui dice che non sa di yakisoba Ma sembrano dei noodles filippini Filippino riori sono quasi, no? Non è filippino tomatica Ah, ok Perché gli ha detto che un suo amico filippino Gliel'ha cucinati Però non è yakisoba, quindi no Vabbè, andiamo avanti con quella della saitebon Sapetemi te Buon appetito Non ha un grande colore Cioè non ha proprio il colore della sova Quello è il primo problema Beh ragazzi, vediamo se questa ci darà delle soddisfazioni Buon appetito Sì Quella della maglia era un pochino troppo oleosa E per finire questa Assaggiamo questa Che questa vabbè è quella più costosa C'ha delle aspettative molto alte Beh costava quasi 2 euro e mezzo Allora diciamo già che il colore è quello della sobato E anche lo spessore dei nudo It's very similar already But Cotto Sppai Cっち nooga Anno è nippon ed è sppai Nippon no Iakisoba è un po' più近i La consistenza è quella tipica della soba E' arrivato il momento di dare i voti 3 3 3 anche io do 3 E soprattutto perché questa c'è anche il doppio delle calorie delle altre due This is actually good Non è male eh quella della soba Cioè non sa proprio di yakisoba soba Però Però non mi dispiace Io do 7 e tu? 8 8 E ora Instant noodles Mi stava con un mitsunato di chibon Ushikatta Un po' più piccola Un po' più piccola Sodano Questa è la più vicina Quindi a questa io do un 10 9 9 9 9 9 9 Quella giapponese diamo un 10 A questa diamo un 9 Però Insomma Costa anche il doppio Vabbè oddio Se volete risparmiare Andate su questo Se volete il gusto tipico della soba Questa Ecco Se vi manca il cibo giapponese Se siete dei giapponesi qui in Italia Prendete questa Se invece siete degli italiani Un po' meno schizzinosi Andate su questa Che vi costa anche meno Bene Che dire Non ci resta che andare in un ristorante giapponese E provare la soba di un ristorante Imakara Ristorante Soba Otabenikimasu 3 2 1 E assaggiamo anche la yakisoba del ristorante Siamo appena tornati Andati e venuti Modotte kitandessine Sì Era piena d'olio Secondo me era quella che aveva le calorie più alte di tutte Quelle che aveva mangiato in quel ristorante Molto nostalgico Sì Vabbè Sì 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 Cioè sapeva molto di spaghetti di soia cinesi Non c'entrava niente Secondo noi quella yakisoba Io do un 5 Perché costava un 5 5 Sì 5 5 5 5 Ragazzi questa è la classifica E se anche voi avete provato queste sobette Che si possono comprare ai supermercati O ci avete dei ristoranti che fanno la yakisoba migliore di quel posto dove siamo andati noi Scrivetecelo nei commenti Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Ciao 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 Qual portion Ciao Ciao Ciao